hanno la fame, li soffrono, Gesù è per quelli che non hanno niente, allora si devono aggrappare a qualcosa, no! Gesù è per tutti, gloria a Dio, per i ricchi e per i poveri, perché tutti siamo stati peccatori, Gesù è morto per tutti, non è solo per i poveri o per i bisognosi che non hanno di che mangiare, allora si aggrappano alla fede, no! Gesù è per tutti, per i ricchi che vivono nel peccato e per i poveri che vivono nel peccato, Gesù è per i bianchi e per i neri, per gli studiosi o per gli incolti, Gesù è la salvezza di ogni creatura, alleluia! Gesù è la speranza dell'umanità, Gesù è la salvezza dell'anima, Gesù è la luce del mondo, colui che morì sulla croce per noi, colui che morì per salvarci dalle nostre iniquità, Gesù ha dato la sua vita, ha dato il suo sangue!